Ciao, nel video di oggi andiamo a vedere degli esercizi per migliorare l'estetica generale delle tue gambe ritenzione idrica, cellulite, per snellire le tue gambe ecco, guarda bene quello che sto per farti vedere ti faccio vedere ad esempio uno squat sumo gambe divaricate, scendo e torno su, schiena bella dritta effetto una bella accosciata, prendo bene le ginocchia all'esterno e vado a lavorare in questo senso fate caso il piede rimane costantemente fermo oppure stacco nello stacco, gamba leggermente flessa, petto in fuori eseguo questo bell'inchino, torno sul, sedere va in fuori ottimo esercizio per lavorare il gluteo, il femorale anche in questo caso il piede rimane fermo andiamo ad eseguire un altro esercizio che ci permette di lavorare su tutta la coscia ad esempio un affondo posteriore se vado ad inserire un leggero inchino in avanti avrò un'attivazione marcata del gluteo anche in questo caso il piede rimane statico, fermo sono tutti esercizi ottimi per la muscolatura per lavorare ad esempio sul gluteo, per migliorare la forma del gluteo sono tutti esercizi però ottimi a far aumentare la pressione capillare e questa pressione capillare in donne che hanno ritenzione idrica che hanno gambe infiammate, gonfie che hanno difficoltà nel ritorno venoso magari hanno un ritardo nell'assorbimento linfatico, appunto nel drenaggio ecco che con questi esercizi andiamo a creare danni hai bisogno di fare esercizi che portino il sangue verso l'alto che vadano ad alleggerire la gamba ecco perché fino ad oggi ti sei sempre trovata male con il lavoro con gli allenamenti in palestra ti si gonfiano le gambe quando ti alleni e dopo un pochino molli sbagli la scelta degli esercizi